음 cld quest'anno con la con la culla è stata una sorpresa non me l'aspettavo comunque come ho sempre partecipato tutti quasi tutte le edizioni ho accettato di buon e mi sono messo di buona lena per studiare cosa presentare. Io ho due nipotine e quindi potevo avere dei suggerimenti da parte loro sulle culle che hanno in casa, ne ho avuto una anch'io in legno vecchia, però poi così ho pensato di medesimarmi in un nonno di una volta, a cui la nipotina ha detto nonno perché non mi fai una culla, i giocatori di una volta nelle case poveri specialmente non è che si andassero a comprare ma si cerca di fabbricarseli, quindi si andava a cercare i pezzi, magari un pezzo di legno, due chiodi, martelle e si costruiva l'oggetto desiderato dalla nipotina. Ecco la mia culla è partita da quell'idea lì, quindi dentro questa culla c'è la storia di mia nonna perché il contenitore è dove mia nonna teneva i gomitoli di lana con i ferri per fare le calze, mi ricordo perché mia nonna è già mancata da tanti anni, era del fine 1800, quindi quando ero bambino mi ricordo che aveva questa scatola con dentro questi gomitoli di lana grigia con i ferri per fare le calze al nonno, gli aghi, le forbici e tutto quanto. E da lì è partita, ho detto, mi sembra un'idea provare a fare una culla con questo oggetto degli anni 20. Poi ho detto, ma visto che ho trovato la scatola della nonna, perché non utilizzare anche tutte le altre cose della nonna se si può? E quindi sono andato alla ricerca, allora, diciamo le tendine della culla sono un pezzo della gonna, un pezzo della gonna anni 30-40 credo, probabilmente in occasione di qualche festa che aveva fatta mia nonna, infatti si vedono un po' di pizzi e tutt'altro. I cuoricini, i cuori e il sostegno delle tendine sono ricavati da un vecchio arcolaio, ormai era già tutto semidistrutto, quindi sono solo più dei pezzi di recupero, i due dondoli sotto recuperati da un vecchio cassetto. In più, dentro la culla, che qui nella foto non si vede, c'è il materassino, il materassino recuperato da un copricuscino e aveva ancora le iniziali ricamate, però ho visto che quando uno è presente alle opere devono essere non note, quindi quello l'ho tralasciato, mi è spiaciuto ma l'ho tralasciato, però la stoffa è una federa di un cuscino. Il cuscino stesso è fatto con un pezzo della fesa, sempre della fesa, e un pezzo della borsa con cui la nonna andava a fare la spesa. Quindi due tessuti. E così, poi sinceramente mi è piaciuto e rimarrà un ricordo della nonna più che altro. La specialità dei miei giocatori, da parte la modernità e cose, è che ognuno ha un pezzo a sé stante, nonostante che è unico, anche se il soggetto si ripete, il cavallino, il tatal, la mucca, ognuno è disegnato, tagliato, sculturato, con le sue ruote, le sue perni, singolo. Non è che faccio 40 perni, 40 ruote. Grazie a tutti.